Sto guardando con piacere, soddisfazione e anche un po' di nostalgia il catalogo della prima Biennolo, questa manifestazione che era nata l'anno scorso a Milano e che prendeva il nome dal quartiere che la ospitava, Nolo, Nord of Loreto. Una Biennolo che ha avuto 8.000 visite nell'arco di solamente 10 giorni, 37 artisti vi hanno partecipato e articoli sui giornali in tutta Italia ne hanno parlato. È stato un grande successo, un grande trionfo e stiamo pensando di rifarla nel 2021, ma tra una edizione e l'altra l'idea era quella di fare un bando d'arte pubblica per lasciare un'opera alla città di Milano. Poi è successo quello che stiamo vivendo, è arrivato il virus e ha cambiato la nostra vita e allora ha cambiato anche il nostro progetto e abbiamo detto anziché coinvolgere solamente gli artisti, coinvolgiamo tutti con questo bando che si chiama Paesaggi Inimmaginabili Cartoline dall'Italia. Cioè che cosa succede? Da quando siamo qui relegati a casa questo è diventato il nostro paesaggio, almeno questo è il mio paesaggio. Io passo le giornate qui, magari qualcuno di voi le passa da un'altra parte, in un altro angolo della casa o forse qualcuno sta lavorando, si muove, insomma ma il paesaggio può essere anche un paesaggio domestico o anche quello che vedete dalla finestra. Allora noi vi invitiamo a partecipare a questo bando mandando una vostra immagine e allegando, qui devo leggere perché voglio essere preciso, il nome e cognome e l'indirizzo dell'autore naturalmente, la geolocalizzazione della fotografia, il titolo dell'immagine, il testo di dascalia di spiegazione dell'immagine con un massimo di 180 caratteri e una brevissima biografia dell'autore con età, professione e residenza. Questo è quello che vi chiediamo e vi chiediamo di inviarlo a questo indirizzo mail, paesaggibiennolo2020.gmail.com Chiediamo che le immagini abbiano una risoluzione minima di 300 dpi in formato jpeg o tif, nelle misure che rispettino i formati cartolina 15x11 e manifesto 100x70. Perché? Perché poi noi faremo una mostra con le 100 immagini che reputeremo migliori e stamperemo anche 10 manifesti. Ci sarà una giuria che io presiderò e decideremo appunto quali sarà il vincitore. Che cosa vince il vincitore? Beh, noi non abbiamo dei fondi limitati, anzi non abbiamo niente, però 1000 Euro riusciamo a darli alla persona che vincerà. Quindi non solo questa sommetta, ma ha anche una mostra con tutte le opere, con le 100 opere migliori. Se vi fa piacere partecipare, secondo me è una bella iniziativa. Ripeto, anziché fare un'opera pubblica di un artista, abbiamo detto forse ci sono tanti altri artisti o semplicemente ognuno di noi ha qualcosa da raccontare in questo momento triste, drammatico della nostra vita. Che l'arte ci aiuti a superarlo.